benvenuti ad arte finanza benvenuto fulvio pellegrini grazie a voi eccoci allora riprendiamo il discorso delle puntate precedenti ovvero adesso parliamo nello specifico del collezionismo efficiente nell'arte contemporanea fulvio pellegrini ha preparato un grafico ce lo leggi ce lo spieghi sì assolutamente sì è conseguente a quello che ci siamo detti in precedenti puntate e qui il collezionismo efficiente noi lo vediamo così qui parliamo di rivalutazione finanziaria delle opere quindi niente a che vedere con il valore artistico delle opere però vedrete che il valore artistico ritorna è una qualità essenziale nel valutare un'opera anche dal punto di vista finanziario alla base di tutto ciò abbiamo una rivalutazione negativa ci sono opere non autentiche oppure opere contraffatte in questo caso mi sembra che la spiegazione sia abbastanza palese e non vada approfondita lì si perde senza pello non c'è niente da fare evidente per quanto riguarda una valutazione scarsa abbiamo opere di bassa qualità di artisti storicizzati nazionali oppure opere seriali di artisti locali e nazionali voi sapete benissimo c'è un signore che parla sempre di opere autografe e autentiche la differenza che l'opera autentica può uscire anche da un atelier mentre l'opera autografa è pensata e eseguita manualmente dall'artista che l'ha ideata e c'è una differenza sostanziale se l'opera non è diciamo così è semplicemente autentica ma non è autografa le possibilità di valutazione sono veramente basse così come il prezzo che abbiamo pagato sarà sicuramente più basso rispetto di opere di alta qualità che poi se la dobbiamo vedere nella totalità è un prezzo forse invece esagerato perché si pensa di risparmiare e invece alla fine quegli stessi denari che ha risparmiato li potevi investire magari in un altro artista che di base costa di meno ma prendendo un'opera di quelle giuste di quelle importanti anche chi va al concetto chi meno spende alla fine più spende che poi vale veramente in tutti i campi in tutti i campi è una questione solo di buon senso non ci sono formule che tengono per quanto riguarda abbiamo messo la rivoluzione media qui mettiamo le opere museali di artisti nazionali e le opere museali di artisti emergenti cioè artisti che non hanno una fama internazionale ancora ma però stanno facendo un mostro internazionale molto importante e anche mostre nazionali quindi sono emergenti perché non sono ancora storicizzati però questi artisti hanno un potenziale da sviluppare su cui si vale la pena di investire e la possibilità di rivoluzione in questo caso è media che poi il discorso che facciamo poco anzi nel senso meglio investire se non si hanno abbastanza denari non su un'opera ultima di un grande artista ma molto meglio prendere il massimo di un artista evidentemente che abbia delle qualità e parleremo di quali che però ti possa permettere di comprare il massimo dell'opera possibile questo devo dire che è un cambio decisivo poi qualcuno dice è meglio essere in classifica l'ultimo in serie a o il primo in serie b ma anche questo è un bel dilemma però se l'artista in serie b passa in serie a sta iniziando il nato forse ma investire su lui rispetto a quello che in serie a retrocede in serie b e credo di sì però queste sono veramente scuole di pensiero no più scuole calcistiche e infine l'opera museale di artisti internazionali qui se prende l'opera di grande qualità di un artista internazionale noi sappiamo che il mercato internazionale ha prezzi sicuramente diversi rispetto a quello del mercato domestico i prezzi sono più elevati le possibilità di compratori anche diciamo così con disponibilità più elevate e quindi fa in modo che queste opere abbiano una maggiore circolazione all'interno di un mercato più vasto e sicuramente più percentuali alte in termini di rivalutazione comprare un setagli di fontana è sicuramente un buon investimento non è un investimento per tutti soprattutto dato che si parla di un milione a taglio circa e poi se tu mi dici compro setagli di fontana perché fra dieci anni me li voglio rivendere è probabilissimo che tu abbia un buon guadagno anche se probabilmente dobbiamo andare a vedere un'altra cosa ancora ovvero quell'artista ha già dato il massimo e questo è un punto di domanda grosso come una casa sì quello che stai dicendo è verissimo tant'è vero che i grandi artisti e le grandi opere d'arte alla fine diventano proprio dei cult e c'è sempre qualche miliardario isparso per qualche parte del globo che si impunta proprio sull'opera quindi direi che il mercato seppur limitato in temi di potenzialità economiche è sicuramente un mercato attraente che garantisce quantomeno di aver investito bene i propri i propri denari su opere che saranno internazionali ma soprattutto saranno immortali in più ti permettono di farti il prezzo da solo perché vero che magari la domanda non è così elevata perché comunque parliamo di cifre enormi ma è vero anche che all'interno di una qualità incredibilmente importante il grande collezionista come dice fulvio c'è sempre il grande museo c'è sempre e tu hai il coltello dalla parte del manico perché non si possono fare confronti con nient'altro e la legge della domanda dell'offerta come in qualsiasi mercato chi ha detiene l'offerta alla fine determina il prezzo esattamente io però vorrei chiederti una cosa sfruttando la tua presenza se ti chiedessi tra gli artisti diciamo così che voi commercializzate come arte investimenti chi metteresti quantomeno nelle prime due nelle prime tre categorie che stiamo guardando adesso che stiamo osservando adesso io ti dico un'altra cosa ovvero ci sono artisti e ti ho fatto adesso l'esempio più lampante che quello di schifano qualche dato che adesso andremo a prendere che rappresentano in toto quello che abbiamo appena detto perché schifano ti può prendere tutte quante queste 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 zone della piramide perché ci sono gli schifano che ti portano a investimento negativo quelli non autentici quelli contraffatti ci sono gli schifano di bassa qualità e sono tantissimi ci sono gli schifano museali ci sono gli schifano che vanno addirittura oltre ora sono andato a prendere delle aggiudicazioni mi sono limitato agli ultimi quattro anni senza andare a prendere l'aggiudicazione di x tempo fa che lascia il tempo le più recenti sì e se andiamo a vedere con il mio tablet vediamo che cosa andiamo a vedere che nel 2019 quindi veramente poco 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 tempo fa adesso arriva anche l'immagine che cosa è successo intanto ti dico è stato battuto un lavoro di mario schifano a 800 mila euro da sotebis che aggiungendo i diritti siamo a un milione rotti mila euro è un'opera di due metri eccola qua per due metri venti quindi è un'opera grande la mia domanda è questa andiamo giù a vedere le grandi opere di qualità come questa del 61 che ha fatto quasi 800 mila euro ma io voglio andare oltre per andarvi a cercare ecco questa mi va benissimo un'opera 110 150 quindi è un'opera grande se parliamo semplicemente di misure che ha fatto 520 mila euro più diritti allora la mia domanda è quante opere di schifano vedete in giro anche due metri per uno quindi forse più grande di questa che costano anche 15 mila euro anche 12 mila euro anche 14 mila euro allora la mia domanda è la medesima è stupido questo signore che ha comprato a 520 mila euro più diritti ed è intelligente che ha comprato a 14 mila euro o chi ha comprato a 520 mila euro più diritti è cosciente del fatto di aver preso un'opera di qualità superiore sicuramente la seconda con il fatto che chi l'ha comprata una cosa evidentemente diversa ma di pari misura vagamente a 13 14 15 mila euro sa deve sapere perché la responsabilità di chi l'ha venduta esattamente che cosa ha comprato questo sia chiaro e questo per quanto riguarda la prima categoria nella seconda categoria chi mi potresti mettere la seconda categoria quella opere museali artisti nazionali oppure opere museali artisti emergenti allora io ti ho messo nella seconda categoria le opere di rodolfo arricò perché dove però dobbiamo andare a prendere lo stesso identico metro di giudizio ovvero opere museali di un artista italiano importante come vedi fanno 110 mila euro 90 mila euro 70 mila euro cifre grosse c'è sempre il contraltare ovvero se noi andiamo a vedere per esempio questa subito dopo questa ci pone un attimo in errore perché dici 65 mila euro sono grandi soldini anche questa sta più o meno in linea con le altre assolutamente no perché è un'opera di due metri e venti per 170 se vai a vedere l'opera qui non è che si veda benissimo ma ti rendi conto che non è una tipica sagoma sagomatura di arricò e questo che cosa ti porta il discorso che facevamo sempre la qualità è un qualcosa di fondamentale dopodiché nei artisti artisti museali nazionali è evidente che ti metto lui piuttosto che un altro nome che ti potrai fare è gregorio sciltian non è evidente te l'ho scelto per un motivo perché tu mi hai scritto degli emergenti e degli artisti nazionali ti colloco io gregorio sciltian come un nuovo emergente perché c'è una fascia che ti vorrei sottoporre ovvero degli artisti storicizzati ma che hanno perso nel tempo un po di smalto nel mercato che quindi diciamo una specie di riscoperta esatto io questa riscoperta la vado a rimettere insieme agli emergenti perché è un po come se ricominciassero da capo il concetto è esattamente questo e il gregorio sciltian degli ultimi tempi gregorio sciltian per intenderci se andavate a vedere le quotazioni negli anni 70 costava quanto di chirico di chirico costava un po meno di adesso però erano a quel livello poi sciltian si è totalmente perso a livello di mercato perché per i motivi che dicevi tu grande artista c'è grande critica c'è manca il top della piramide ovvero il grande mercante e questo ha fatto crollare tutto quanto adesso c'è ordine e c'è mercato su sciltian pur non essendo un emergente in senso stretto è un artista che sta ricrescendo in maniera vertiginosa negli ultimi tempi sciltian vedete che ha fatto 30 mila euro questa seconda se non sbaglio di pochissimo tempo fa esatto e di e di del 2019 come aggiudicazione misure 22 mila euro è un 110 85 quindi non è neanche un qualcosa sì un'opera grande ma non gigantesca questo ti fa capire che ci sono e l'ho preso apposta oltre agli emergenti potremmo parlare di liubolin per esempio potremmo parlare di tanti ma ci sono le riscoperte che è un'altra cosa fondamentale benissimo quindi si può concludo dicendo che qualità musealità e chiaramente i canali commerciali rimangono sempre alla base di ogni artista e di ogni valutazione anche di carattere finanziario oltre che di natura diciamo così artistica e quindi di natura di natura diciamo prettamente legata all'arte fondamentale ci devono essere tutti e tre qualità musealità quindi critica e mercato se non ci sono tutti e tre tutto crolla sono riuscito a far sbilanciare finalmente una volta Gabriele che non si sbilancia male e quindi spero che questo sia sia utile per voi come collezionisti perché poi alla fine il collezionista fa tutto per passione e difficilmente pensa in quel momento all'investimento però ultimamente la tendenza anche che il collezionista sta pensando anche all'acquisto in arte come forma di investimento. Esatto. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Alla prossima.